È una mostra importante, che cosa significa per la città di Milano? Siamo nell'ambito del Festival dei Beni Confiscati e i beni confiscati non sono solo gli immobili ma anche le opere d'arte. Questa mostra di 80 quadri è un'occasione anche per raccontare alla città e penso anche a molti più giovani di quanto la presenza del fenomeno mafioso sia importante e forte nel nostro territorio però anche quanto siano importanti le attività di contrasto. Quindi è un'operazione anche per promuovere legalità, al senso della legalità restituendo alla collettività queste opere che sono state sottratte a tutti noi.